Si cerca di tenersi protetti anche rispetto agli altri e chissà che appasse. Ho tolto tantissimo il contatto umano e non ci si abitua a togliere, specialmente noi che avevamo bisogno di compagnia. Sicuramente ha allontanato un po' tutte le famiglie, i parenti che non si fidano a trovarsi, quindi sì, sicuramente mi ha tolto, ovvio. E quest'anno invece avrà modo di festeggiarlo insieme oppure no? No, 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 a casa tranquilla, da sola, pazienza, anche quest'anno va così. Speriamo di no, io almeno ho fatto tutto l'albero, ho addobbato il foro della casa, come tutti gli altri anni, speriamo in bene, dai. Penso a tutti ha tolto qualcosa, però io facendomi i vaccini e tutto quello che dicevano i medici, sono anche abbastanza contenta e fiduciosa. Si fa più attenzione, si mette la mascherina, si va nei posti estremamente necessari e basta. E per l'anno? Eh, diciamo, ha tolto un po' di allegria, noi abbiamo perso la nonna durante il Covid, quindi sì, è diventato un giorno un po' diverso rispetto agli anni precedenti, però per il resto facciamo le stesse cose. Si siamo un po' più attenti, insomma. Si prospetta un Natale diverso.